e qual è in assoluto adesso adesso sì che vi invito a chiudere gli occhi anzi chiudili anche tu se ti dico Maradona che cosa pensi Milan Napoli Coppa Italia San Siro nell'acqua io sono lì per il Milan ovviamente c'è un campanile è vero che il pallone è 450 grammi regolamentari sì però quando si gioca nell'acqua con l'acqua la palla è andata quasi al terzo anello sta scendendo un meteorite e ci sono due idoli della mia vita Franco Baresi spalle a Maradona e Maldini che è a 3-4 metri di distanza sto fenomeno qua scende il meteorite ma neanche lo stoppa esterno sinistro senza guardare a 20 metri ma senza guardare esattamente sull'esterno che saliva il mio idolo Franco Baresi guarda Paolo Maldini e tutti e due allargano le braccia non so se si vede in televisione come dire cosa vuoi fare? cosa vuoi fare? cioè io più di così non posso fare cioè l'ho spinto sta scendendo il meteorite e questo qua di me è completamente disinteressato hai fatto c'è